eccoci qua buongiorno a tutti allora una domanda che mi viene spesso fatta è giusto rimproverare il cucciolo quando sporca in casa allora ricordatevi che il cane vive delle associazioni emotive a situazioni quindi dobbiamo essere molto bravi e stare molto attenti a dargli le giuste associazioni il cucciolo appena entrato in casa non sa quali sono le regole della casa non sa quali sono le regole dell'ambiente domestico quindi se noi in quel momento lo vediamo sporcare e lo brontoliamo il cane non capirà che noi lo stiamo brontolando perché sta sporcando in casa capirà che noi non vogliamo che lui sporchi quindi a quel punto noi quando lo portiamo fuori cane cosa penserà adesso ce l'ho qui non faccio niente classica situazione di persone che portano fuori i cani per ore intorno all'isolato tornano in casa il cane non gli ha fatto niente si nasconde dal divano e fa la pipì quindi stiamo molto attenti a brontolare il cane quando lo vediamo sporcare specialmente i primi tempi diamogli delle associazioni positive che funzionano molto meglio quando il cane sporca fuori questa è una cosa veramente molto importante fondamentale per insegnare al vostro cucciolo a sporcare fuori casa associazioni positive quando lo vedete sporcare fuori io vi ringrazio e vi auguro buona giornata